Allora eccoci di nuovo in diretta dritti al punto e adesso ci occupiamo di un aspetto molto particolare e molto delicato perché la scorsa settimana quando ne abbiamo parlato di psicologia delle famiglie veramente siamo state sommerse io e la dottoressa Alexia Di Filippo di domande perché perché riguarda tutti noi la famiglia i nostri figli come educarli essere permissivi o no ecco oggi proprio di questo ci vogliamo occupare essere permissivi con i propri figli che cosa produce quali sono le conseguenze a lungo termine per i nostri figli allora innanzitutto dottoressa Di Filippo psicologa psicoterapeuta come come si prospetta come si presenta una famiglia permissiva i genitori permissivi sono facilmente riconoscibili perché particolarmente indulgenti poco tradizionali e per nulla esigenti questo perché non si aspettano dai figli che mostrino dei comportamenti adeguati all'età e alla maturità degli stessi e perché si affidano ad una sorta di autorregolamentazione dei bambini all'interno di un contesto familiare che ovviamente sono loro a strutturare in questo modo dove non vi sono né gerarchie né regole certe e dove il consenso deve essere sostanzialmente conquistato a seguito di una contrattazione e quindi è chiaro che i bambini e i ragazzi vengono coinvolti in questa forma di mediazione di con di continua discussione di ciò che viene deciso all'interno della famiglia in quanto la cosa che viene maggiormente desiderata dai genitori che utilizzano uno stile educativo permissivo è l'armonia è la pace familiare sul cui altare ve lo vedremo sacrificano degli aspetti molto importanti invece per soprattutto per i bambini per i ragazzi senta dottoressa si è parlato c'è stato un periodo dove parlava solo di metodo montessori dove i figli devono essere liberi vogliono prendere una penna e scrivere sul muro e un bambino deve essere libero vuole fare le sue cosine in terra non andare al bagno e deve essere libero un bambino e ha prodotto tanti danni questo metodo montessori ce ne vuole parlare dottoressa perché all'inizio è stato sannato anche proprio dalla classe delle psicologi ad essere ampiamente condannato lei qual è il suo parere da super esperta allora guardi ci sono degli aspetti di questo metodo che sono ed è il motivo per il quale è stato tanto utilizzato che sono positivi quali la responsabilità dare la responsabilità ai piccoli di utilizzare gli utensili di apparecchiarsi di organizzare per certi aspetti certe loro attività quindi sotto questo aspetto il metodo è positivo certamente ci sono delle altre connotazioni invece meno positive perché i piccoli effettivamente hanno bisogno di regole certe perché forniscono loro un contenitore questo in famiglia come a scuola costituiscono un contenitore nel quale si sentono sicuri in cui possono diventare autonomi in cui si cimentano con capacità importanti quali quella della appunto contrattazione l'altra dell'attesa anche quella della rinuncia nel caso l'attività che vogliono intraprendere non si adatta per loro quindi sotto questo aspetto appunto una estrema lassità del contesto può non essere di aiuto perché poi lo vedremo questo è ciò che accade ai bambini che vivono all'interno di famiglie permissive i piccoli non ha diciamo non si trova finiscono per non trovarsi bene e negli altri contesti per crescere con una scarsa autostima e per avere poi tutta una serie di problematiche questo perché perché i genitori trasportano quella che è l'abitudine a comportarsi tra di loro in genere i genitori permissivi sono stati prima che genitori una coppia in cui si è molto collaborato e sono stati sono state due persone due individualità disposte a riconoscere all'altro ampi spazi di libertà e proprio in quanto fermamente convinti sia perché in tanti casi derivano da famiglie diciamo provengono da famiglie con lo stesso sistema educativo oppure al contrario perché hanno reagito a famiglie autoritarie quindi vissute come particolarmente oppressive sia oppressive e anche schiaccianti in tanti casi e hanno sviluppato un rapporto per cui tutto deve essere stabilito attraverso l'ottenimento del consenso e questo consenso si si ottiene a sua volta attraverso la contrattazione la discussione il fornire degli argomenti ragionevoli validi ecco posso dirle dottoressa scusi se l'ho interrotta che l'educazione permissiva è anche molto semplice per chi l'adotta perché dare tutte le vinte al figlio è la maniera più semplice per andare avanti almeno fino a che è piccolo perché poi i conti arrivano quando cresce ha detto una grande verità infatti quella quello che è un sistema di estrema collaborazione che può andar bene per una coppia non è adeguato per la famiglia perché i bambini non possono avere pari diritti degli adulti nel discutere regole che li riguardano perché perché non hanno né la maturazione cognitiva né quella affettiva né tantomeno l'esperienza per poter loro stabilire cosa sia meglio per loro stessi immaginiamoci sotto tutti i punti di vista sia relativamente a ciò che devono mangiare a quanto devono utilizzare i dispositivi digitali a quando devono andare a dormire immaginiamoci che devono fare i compiti esattamente quindi è chiaro che i genitori e si cioè li trattano come se fosse una diciamo con un sistema assembleare per cui quando devono decidere coinvolgono i bambini cercando di convincerli di ciò che sia meglio per loro e naturalmente siccome il sistema permissivo non in qualche modo implica le punizioni perché come diceva lei questi genitori all'inizio sono facilitati perché loro non vogliono dominare loro condannano la dominanza nella relazione perché pensano che questo implichi la prevaricazione che è il nemico numero uno alla loro idea di pace familiare ma in realtà questa posizione che potrebbe ripeto andare bene per una coppia con i bambini è fallimentare perché intanto finiscono per diventare loro ostaggio dei piccoli non solo ma ogni considerando che in questo tipo di struttura familiare tutti hanno pari diritti ciò implica che nel processo decisionale sia necessario che uno solo si opponga da bloccare tutto il processo tra l'altro mi scusi dottoressa questa cosa di cui lei sta parlando è tanto più evidente con i figli dei separati mi spiego meglio la madre permissiva perché vuole quasi recuperare per il fatto che si sente colpevole e non si sa per quale motivo di questa separazione le dà tutte vinte dall'altra parte il padre che invece ha un carattere magari un po più come dire forte non ha tutte queste accortezze col bambino è severo allora tu vedi un bambino che si sdoppia cioè sta con la madre e lo vedi sereno tranquillo e fa quello che vuole va col padre diventa una macchinetta ecco ma quanto fa male questo tipo di sdoppiamento di educazione c'è un ulteriore problema che riguarda i genitori separati perché qui non si condivide neanche lo stesso stile educativo ma se ne propongono due e questo è estremamente confondente per il bambino e per il ragazzo dopo perché come se vivesse cioè gli si chiedesse di vivere due vite con due con due caratteristiche molto diverse regole diverse non solo ma all'interno di queste problematiche tipiche dei genitori separati si insinua la manipolazione la possibilità della manipolazione perché i bambini e i ragazzi sapendo che i genitori la pensano diversamente si rivolgono ora all'uno ora all'altra per ottenere dei benefici appunto a seconda della che l'uno o l'altra siano d'accordo o meno alla regola imposta o alla problematica che si impone in quel momento e questo è sbagliato la linea educativa l'oramento c'è solo una cosa peggiore di una linea educa di uno stile educativo non appropriato non averne uno coerente averne due a meno che a meno che uno uno dei due genitori non abbia uno stile educativo autorevole cioè quello più auspicabile e allora in quel caso quel genitore anche se solo certamente ammorbidisce attenua i danni dello stile educativo errato dell'altro genitore senta dottoressa ancora vediamo questi bambini no che non sono colpevoli di queste separazioni che purtroppo sono sempre più frequenti infatti nelle scuole addirittura i maestri elementari parlano parlo quando è la festa della mamma o del papà hanno dei timori a rappresentarle perché vedono bambini che piangono non vogliono scrivere il pensierino escono dalla classe cioè le reazioni più disparate proprio a dimostrazione del dolore magari non manifesto di questi ragazzini il bambino che invece a situazioni di insofferenza di rimprovero reagisce con la chiusura non parla più ecco come si può intervenire in questo senso perché spesso questo tipo di atteggiamento poi i bimbi lo ripropongono anche a scuola nel senso che se la maestra indaga chiede fa un'interrogazione magari con più circospezione il bambino si vede di fronte magari non vede più la maestra e vede la madre no e in quel momento non parla più ecco questo è un danno che poi si arrega grave al bambino come si può intervenire per cambiare questo tipo di atteggiamento di risposta che tema importante che ha posto meriterebbe un approfondimento a parte cercherò di essere esaustiva anche in questo in questo spazio dedicato alle famiglie permissive allora i genitori non dovrebbero mai dimenticare che i conflitti tra di loro nuocciano principalmente particolarmente ai figli che dovrebbero essere risparmiati perché loro cessano di essere una coppia ma non cessano di essere un genitore genitori e il progetto famiglia continua anche se i genitori si separano e far vivere i bambini in questo stato di diciamo grande conflitto disapprovazione l'uno dell'altra comporta che i piccoli poi abbiano queste reazioni davvero struggenti che lei rappresentava di grande disagio di pianto di difficoltà di parlare ora dell'uno ora dell'altra non solo ma la cognizione di questi piccoli è sequestrata dai dalle problematiche familiari apprendono con maggiori difficoltà possono presentare dei comportamenti di ritiro che bisogna sempre che siano considerati attentamente sicuramente dalle insegnanti ma ancora di più dai genitori addirittura quando si interroga domanda banalissima che magari fa la zia a chi vuoi più bene mamma papà vedi la faccia di questi bambini che si ritraggono perché è qualcosa che loro non vogliono rispondere anche agli stessi genitori se il padre o la madre chiedono come sei stato con papà che cosa hai fatto il bambino in questione si gira e si mette a giocare poveri piccoli certamente sono sono problemi più grandi di loro è questo che io non riesco a capire dottoressa perché anche questo è un settore che a me interessa molto all'università lo studiai però poi ho deciso di fare la giornalista e non la psicologa meno male così ho conosciuto lei facciamo due lavori e viceversa e voglio dire è una cosa molto grave il ragazzino viene messo in una condizione di qualcosa che non riesce ad affrontare e questo i genitori ma come fanno a non capirlo quando il ragazzo si chiude c'è qualcosa dietro che lo fa soffrire perché ogni bambino allegro e spensierato gioca ride scherza non ha contezza dei problemi della vita nemmeno del covid di niente le mascherine l'hanno preso i piccoletti come un gioco guardavano chi aveva la mascherina più colorata cioè l'innocenza ma perché dobbiamo turbare l'innocenza di questi piccoli che poi saranno degli adulti problematici che a loro volta riproporranno degli schemi sbagliati di coppia per l'egoismo dei genitori non c'è alcun dubbio il problema è che i piccoli se sanno intanto si rendono perfettamente conto perché i bambini sono di una intelligenza di una sensibilità si rendono conto dei conflitti che ci sono tra i genitori anche se la conflittualità non è aperta e manifesta è certo che non rispondono se gli si volentieri se gli si domanda che come se com'è andata la giornata con il papà o con la mamma se ogni volta che i piccoli tornano a casa assistono magari all'iti sentono telefonate della mamma o del papà con altri parenti dove c'è la critica dove parlano male del genitore dell'altro genitore è una cosa sbagliatissima io le devo dire da psicologo dello sviluppo e dell'educazione da quasi 25 anni ormai oltre che da psicoterapeuta questo è un aspetto che io ho sempre curato con i genitori il potenziamento della capacità educativa che nelle coppie separate deve passare proprio attraverso alla presa d'atto che i bambini devono essere lasciati fuori dalle dinamiche personali di coppia dei genitori che restano e saranno sempre i loro genitori e devono fare il meglio per loro e il meglio per loro è fargli vivere serenamente la vita e farli adattare alla separazione nella modalità migliore possibile in modo che i piccoli non ne abbiano danni come per esempio il discorso del ritiro è molto preoccupante spesso vi sono delle forme depressive dei piccoli dietro a questo tipo di comportamenti che devono essere riconosciute e devono essere soprattutto attenzionate su cui si deve agire tempestivamente può essere l'incipit di una depressione di un inizio di malattia assolutamente sì non c'è alcun dubbio e il genitore competente il genitore che ama il proprio figlio soprattutto il genitore che si sintonizza emotivamente sul figlio dovrebbe ben comprendere che dovrebbe essere risparmiato da certe dinamiche che lo addolorano che non può comprendere che non ha la capacità che naturalmente essendo piccolo non ha modo di poterne anche integrare che come giustamente ha detto lei vanno a costituire delle ferite gravi nella sua vita e che oltretutto rischia il piccolo di ripetere perché vengono a costituire dei modelli apprende dai genitori dei modelli relazionali disfunzionali che poi tenderà a ripetere o in un ruolo o in un altro nella propria vita soffrendone moltissimo e poi dottoressa l'ultima cosa sono giudici i nostri figli allora i genitori poi non si devono lamentare che quando cominciano ad avere qualche anno in più il figlio sparisce fatevi una domanda se poi arrivate ad avere i vostri 70 anni 80 anni e il vostro figlio di 30 anni non vi chiama non vi telefono non vi vuole vedere motivo c'è ripensate a tutto quello che è successo quando era piccolino sono stati sono stati vessati da comportamenti sbagliati e la reazione poi c'è mi dispiace cercate di fare i genitori con amore e quello che avete in contestazione col vostro ex partner non lo usate come merce di scambio con i vostri figli perché poi quando diventano uomini o donne la pagate questo è la vita è un turnover no dottoressa assolutamente la ringrazio per questo incipit perché mi consente di terminare questa breve diciamo introduzione alla genitorialità estremamente permissiva dicendo che il caso dei figli che poi fanno pagare le proprie problematiche ai genitori è proprio quello del dello stile educativo permissivo perché sono ragazzi che andando incontro all'adolescenza da piccoli hanno alcuni problemi di chiaramente disconferma da parte della scuola perché non avendo regole certe non essendoci la sanzione non facendo mai appello al loro senso di responsabilità chiaramente sono bimbi che hanno problemi in contenitori in cui naturalmente la regola ha un'importante funzione ma quando arriva l'adolescenza come giustamente anticipava lei accade ed è molto grave che questi ragazzi non stimano il genitore che si profonde in grandi spiegazioni sul perché dovrebbero fare certe cose perché non dovrebbero farne altre perdendo di autorità ai loro occhi e non avendo mai ricevuto un no i ragazzi che vivono in contesti permissivi sviluppano tutta una serie di problemi non ascoltano più il genitore spesso sono più permeabili a problemati diciamo hanno maggiore possibilità di sviluppare sintomi depressivi ossessioni fobie ma soprattutto gli studi ci dicono che sono più esposti all'uso di sostanze stupefacenti all'abuso di alcol alla sessualità estremamente promiscua e alla devianza quindi questi sono i figli cosiddetti che si perdono e che appunto poi imboccano delle strade sbagliate questo i genitori poi dopo una volta che arrivano all'adolescenza si sa i ragazzi si educano fino ai 12 anni poi quando naturalmente c'è l'investimento fuori di casa nel gruppo dei pari c'è la tempesta emotiva ormonale dell'adolescenza se non si è fatto un buon lavoro prima è molto difficile recuperarli allora dottoressa io la ringrazio dobbiamo dare la linea pubblicità per i nostri telespettatori che vogliono sapere dove trovarla la trovate su instagram dottoressa lexia di filippo la contattate su instagram risponde a tutti per le vostre problematiche perché è una professionista seria e quindi come tale questo fa voi avete degli interrogativi volete parlare di qualcosa in particolare in trasmissione o a lei o a me lo sapete come mi consiglio dato da una esperta allora diamo la linea pubblicità poi ancora in studio con l'ultimo ospite ciao a tutti a tutti a tutti a tutti a tutti a